Buonasera a un bellissimo pubblico, adesso inizieremo con la sfilata di Miss Halloween. Spero che la serata vi sia piaciuta e sia stata di vostro gradimento, speriamo bene. Grazie, grazie a me. Adesso iniziamo con la prima concorrente, la numero uno. Prego, Miss Halloween, il numero uno. Prego, un applauso, signori. Un po' di musica, maestro, un po' di musica. Numero uno, posizionati. Adesso la Miss Halloween, numero due, prego. Prego, la Miss Halloween, numero due. Posizione. Miss Halloween, numero due, prego. La numero due. La Miss Halloween, numero due. Miss Halloween, numero due. Un applauso, signori. La Miss Halloween, numero due. Numero due. Miss Halloween, numero due. Vai alto, vai, alto, vai! Cristiano è numero sette, numero sette, vengo Laura, numero sette. Ok, giuria, lasciamo il compito di giudicare le prime classificate del più la maschera più bella della serata, la maschera più originale. Cirovogossa, prego, dai giudizio. Al Corriio Napoletano, Cirovogossa. Un grande applauva a Cirovogossa, al Corriio Napoletano. Signori, un applauva anche a Francesca Librano, attrice, modella, furtita, mattina. Un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso per la mia famosa, a Francesca Librano, attrice. Grazie a tutti i autori! Grazie a tutti i autori!